Grasso d'acqua bollente, ma l'etichetta non la consente. Sporco d'acqua bollente, ma l'etichetta non la consente. Chi me lo pulirà senza acqua bollente? Arriel Lavatrice, tagliamo un indumento sporco di grasso, laviamo ne metà con Arriel. Già a 60 gradi Arriel agisce a fondo fino ad un pulito impeccabile. Il grasso era d'acqua bollente, l'etichetta non la consente, ma con Arriel ho un pulito splendente. Lo sporco era d'acqua bollente, l'etichetta non la consente, ma con Arriel Lavatrice ho un pulito impeccabile. persino senza acqua bollente. Carie, dentifrici, solo le donne come me, mamme e mogli mi possono capire. Quando dico che anche scegliere un dentifricio è una responsabilità, allora mi sono informata. Ho scelto a Z verde. La formula di a Z verde consente il maggior utilizzo del fluoro perché lo rende disponibile al 100% in forma ionica. E' questo il fluoro attivo che rende più duro e resistente lo smalto, proteggendo i denti contro l'insorgenza della carie. Con a Z verde sento di fare il meglio per i loro denti e anche per i miei. A Z verde, protezione attiva contro l'insorgenza della carie. Fatti una draer, c'è più gusto. Siamo a Parigi, a Louvre. Mi piacerebbe avere un Leonardo, un De La Tour, un Batu, un David. Allora, comprate l'Europeo di questa settimana e saranno vostri. Io ci tengo a star bene e a far star bene i miei capelli. Ogni mattina, lozione Pantene, l'unica al Pantil. Un bel massaggio vigoroso mi aiuta a conservarli sani e forti, senza forfore. Gran cosa, Pantene. Per forza, hai il Pantil, un derivato della vitamina B5 che penetra nel capello, lo rinforza e lo protegge. Lozione Pantene al Pantil, diretta a conservare capelli folti e sani. Pantene, pensateci. Cornetto Alida, vi offre? Se volete una classe come la terza C, procuratevi i seguenti ingredienti. Due manciate di simpatia, un pizzico di eccentricità, un filo di incoscienza, una spruzzata di ingenuità e un tocco di classe. Mescolate con sapienza, con amore e il risultato sarà una classe ad origine controllata. I ragazzi della terza C, martedì alle 20.30 su Italia 1. Una presentazione, Bade das Parfum de Odoran. Bella la vita dell'allenatore. Ma un allenatore di serie B? Già, perché non è solo un fatto sportivo. C'è anche la famiglia, è il presidente, è i giocatori, è i tifosi. E poi la retrocessione, la salvezza, i gol. È una vita che può mandarti nel pallone. Lino Banti, Gigi Andrea. L'allenatore nel pallone. Prima TV, mercoledì alle 20.30 su Canale 5. 1, 2, 3 Che buona questa birra, anche tu la sognerai. Hemminger, Hemminger, 1, 2, 3 Con tutti questi gusti chissà quale scegnerai. Hemminger, Hemminger, 1, 2, 3 Tre gusti per te, tre gusti Hemminger. La export, che allegria, che freschezza sentirai. Hemminger, Hemminger, 1, 2, 3 Esatto in mezzo sempre, ecco quel che scenderai. Hemminger, Hemminger, 1, 2, 3 Se tu che appena sveglia già prepari il suo caffè Miss Rancilio Sei bene che il sorriso può dipendere da te Miss Rancilio Vesti in fretta mentre lui è ancora là che dorme Miss, Miss Rancilio Sei tu che gli prepari sempre la felicità Miss Rancilio La Miss di casa tua Sei solo tu Vector Goodyear Deciso con la neve Sicuro con la pioggia Perfetto con il caldo più intenso La nuova tecnologia di Vector per ogni condizione stradale Vector Goodyear Il primo per tutte le stagioni Da GS Paghi tu e porti via tre Da GS tante offerte col 33% di sconto Paghi tu e porti via tre Vieni anche tu da GS Paghi tu e porti via tre Nuovo doccia schiuma camai con glicerina Ti offre? Per fare trebici Occorre un amico muto con un pesce Una cassiera disponibile Neanche se mi dici che sei stato tu a fare trebici Un lavoro creativo Una sorella ospitale Degli amici disinteressati Io voglio un appartamento E non vuoi dirmi di nuovo io E ultima cosa essenziale Giocare la schedina Al bar dello sport Giovedì alle 20.30 Su Italia 1 Rimuovere la placca Non vuol sempre dire combattere il tartaro Un nemico ben più duro Che si accumula intorno ai nostri denti Per rallentare la formazione di nuovo tartaro Ci vuole un dentifricio specifico come Defend AT Defend AT ha un'azione prolungata nel tempo Che rallenta la cristallizzazione di depositi contenuti nella saliva Oggi puoi combattere il tartaro con Defend AT Il primo antitartaro in dispenser Defend AT e il tuo spazzolino Insieme per difendere denti e gengive Siamo nella preistoria Quando i pavimenti si lavavano così Ma tutto questo è acqua passata Perché oggi c'è acqua sonic Acqua sonic è il primo e unico elettrodomestico per lavare i pavimenti Che strizza il panno e lo asciuga automaticamente Oggi i pavimenti si lavano così Con acqua sonic L'era della fatica è finita Caramelle e Flavoral 10 piaceri da scoprire Insieme Insieme Flavoral Nella sua dieta la frutta è importante Perché ricca di vitamine e sali minerali Comincia con la frutta omogeneizzata Plasmon È buona frutta rigorosamente controllata Omogeneizzata finemente perché possa digerirla meglio Senza conservanti Frutta omogeneizzata Plasmon La frutta ideale per il tuo bambino Plasmon Nuovo doccia schiuma camai con glicerina ti offre Carlo Verdone Bello Arena Marina Suma Cuori nella tormenta Ovvero quando due amici si vanno ad innamorare della stessa donna Ma Bebias è in colpo Bebias Dai O sceglie lei Ma come facciamo con lui? O rinuncia a uno di loro L'amore Oppure Quanto ho aspettato questo momento Mi tracciati È inutile che spegnete la luce Oppure Cuori nella tormenta Prima visione televisiva Lunedì alle 20.30 Su canale C1 Mare di freschezza Chiara fresca Sprite Chiara come il cielo Guardala e vedrai Fresca per la tua sete Tu prova il gusto online Così è Sprite Chiara Sprite Fresca Sprite Dai Togli ancora il gusto E non lasciarla mai Per l'acqua Se te c'è Limpida Chiara fresca Sprite Dicono che col casco i ragazzi non ti guardano Ah sì? Cambia vita Sali in viaggio Cellulite 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 Affidati seriamente a Somatoline Una specialità farmaceutica Manetti e Roberts In ogni bustina Somatoline C'è la dose giusta scientificamente sperimentata Per combattere seriamente la cellulite E dose dopo dose vedi i risultati Contro la cellulite Affidati seriamente a Somatoline In farmacia È un medicinale Usare con cautela Manetti e Roberts Farmaceutici Solo un vero Blended Sa armonicamente riunire I più selezionati whisky scozzesi Ballantines Un concerto di whisky scozzesi selezionati Per darti il gusto pieno Di un grande Blended Ballantines L'armonia di un concerto di whisky In tv sorrisi e canzoni di questa settimana Gianni Morandi Le italiane sono belle Entriamo a casa di Joan Collins Bingo Vinci 100 milioni E una pelliccia di volpe Annabella TV sorrisi e canzoni Insieme Da protagonista Novi dentisti su dieci consigliano chewing gum senza zucchero Vivi, 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 Vivi Vivi Dent Vivi Dent Tutto gusto e freschezza Senza zucchero Approvato dall'Associazione medici dentisti italiani La freschezza di Vivi Dent È anche in compresso Vivi Dent L'aranciata vera Era buona, 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 buona Prima che arrivasse Piero A me l'aranciata mi dà la testa Aranciata vera Buona veramente Vector Goodyear, deciso con la neve, sicuro con la pioggia, perfetto con il caldo più intenso la nuova tecnologia di Vector per ogni condizione stradale Vector Goodyear, il primo per tutte le stagioni Per la mia bellezza ho tanti prodotti, ma per il mio sorriso uso solo Pearl Drops Si usa come un dentifricio, ma non è un dentifricio, è un delicato trattamento di bellezza che lucida e rende bianchissimi i denti, visto? Pearl Drops, usalo tutti i giorni, anche tu Passiamo ora alla politica estera Tesoro, non vieni a casa? No Peccato Indovina che cosa ti avevo fatto? La pasta e i fagioli Con il dado Knorr? Mia moglie mi ha fatto la pasta e i fagioli Ma cosa sta dicendo? Con il dado Knorr Per fortuna che non ho sposato un chirurgo Dado Knorr Ha un sapore così, non si resiste Immagina di entrare nel vortice di una supernova Di passare la soglia del mistero Di guidare uno sciame di lucciole Allora anche tu hai raggiunto il posto dei desideri Dai confini della realtà Lunedì alle 21.30 Su Italia 1 Sei anche tu un lupo solitario È tornata Mi piace quanto mi cerca Anna non ha tempo di perdere quei gommitori Però ride della mia passione per le sue gambe Gioco con i suoi capelli O mi nascondo nel suo corpo Anna Graffi a chi la tocca Questo è amore Anna Quando un uomo usa l'eau de toilette Dracard de Guilaroge Che cosa cerca? Farsi notare? Di essere anticonformista? Sedurre? No, non cerca niente Si sente apposto Dracard de Guilaroge Pour en Sfrutta la frutta 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 Bravo Sfrutta la frutta Dei succhi g Ed ora il grande concorso dei succhi G Bevi, cerca la G dietro l'etichetta e Vinci! 20.000 luccio lacid Felpe jeans t-shirt blooming Borse Giulia Irving E a destrazione finale 25 volpi colba Dai! Bevi G e Vinci! Quando le gengive si fanno sentire è un segno di pericolo per i tuoi denti Agisci con AZ15, il dentifricio medicato specifico per gengive AZ15 grazie al suo potere disinfettante combatte la placca batterica Mentre i suoi principi attivi leniscono in profondità i tessuti gengivali Lasciandoti un'intensa sensazione di benessere Così aiuti le gengive a mantenersi forti e sane AZ15, il momento di cura delle gengive che assicura il futuro dei tuoi denti AZ15, il gengi dentifricio dalla ricerca AZ Sì, Milano La città dell'amaro Ramazzotti L'amaro di chi vive e lavora Sì, l'amaro Ramazzotti L'amaro di questa Milano da vivere Da sognare, da godere Di questa Milano da bere San Marzano Borschi vi offre Contro tutti, venerdì alle 20.30 su Italia 1 Grazie a tutti Levis 501 Red tab Vuoi dire che non lo fai tutti i giorni? Non posso, ho la forfora Ma sì che puoi Lo shampoo tutti i giorni È un bell'effetto Effetto formula L'antiforfora che ha maniere forti ma solo contro la forfora Così delicato sui capelli che puoi usarlo anche tutti i giorni O2 Toilette Cacharel Nuova Citroën AX Lo sapete? La nuova AX fa più di 25 chilometri con un litro 2 litri, 50 chilometri L'evoluzionalia Tra pochi minuti va in onda il nostro settimanale calcistico Ottavio Bianchi da Napoli ci racconta i segreti del suo Magico Napoli In studio Roberto Bettega e Fabio Capello fanno il punto Sulle disavventure internazionali del nostro calcio Ci vediamo tra poco Questo programma è offerto da Olio Fiat L'olio fatto da chi di motori se ne intende Questo film vi è stato offerto da Caf Caffè Borschi Buono, vero?